Questa è un'organizzazione, un'fondazione, che vuole vigilar la qualità di insegnanza dei quadri. Noi sono in contatto con le nostre organizzazioni, con altre organizzazioni in Holanda, in Inglaterra, in America, in Cuba, etc. E il Covid ha dato il nostro tour. Il nostro paese è mirato come non sta contrarrestando le conseguenze del Covid. Nel Covid ha dato le nostre insegnanze, ma anche in un altro paese. E la pone un spillo di lante le nostre insegnanze, in cui mi ha fatto quanto va a solucionar, quanto va a mirare, quanto va a rendere l'esclare. L'esclare non è solo che mi ha fatto un po' di lavoro, ma mi ha fatto la struttura, il contenuto, e la metà con le insegnanze, con il nostro paese, trajando un manegro nuovo per contrarrestare le conseguenze del Covid. In Inglaterra, per esempio, in America, in Holanda, in maniera nostra mira in Holanda, mi ha dato che non mi ha investito 8.5 miliardi. Per me raccontare 300 insegnanze, ma non mi ha investito, ma non mi ha investito 8.5 milioni, euro, 190 milioni, per invertire le nostre treche e l'assunto. Lo che ci ha fatto, ci ha analizzato la situazione, la nostra proposta è di un partito di elezione, di un governo, di un istante, di un ingrediente per formulari un manegro a corto e a largo plazzo. Il Chotaku, il nostro concentrato, con le insegnanze, la sua qualità depende completamente di una gran parte della qualità dei nostri maestri. La portazione, con il tapone e il desarrollo della maestria, la soluzione, passò a Nanopore. Nanopore, senza inversione, senza giudanza tecnica, passò a riparare il aspecto sociale a empeorare. Grazie. Grazie.